siamo tornati e l'appuntamento già ieri Massimo è stato puntuale grandissimo salutiamo Massimo Zampini tutti i suoi ospiti già del post del clima post natalizio perché qua siamo dentro ovviamente una stagione di calcio che non ha interruzioni con questa strana cadenza settimanale a cui ci siamo abituati sì o no senza le coppe ma con l'idea magari di disturbare là in alto abbiamo vinto a Frosinone ce lo siamo quasi dimenticati prepariamo Juventus Roma noi siamo qua per un approfondimento di lunga gittata eh perché verranno a trovarci anche Giovanni Albanese altri amici ospiti eccetera eccetera ma io parto con mister Zenzola perché voglio fare un mini zona un mini zona mi serve dopo Natale ragazzi l'avete preso il digestivo giusto no e allora beccatevi il mini zona ciao mister ciao Luca buon poveriggio a tutti ben ritrovato ovviamente buone feste ancora tutti siamo nel corso delle feste chi eh oggi lo vive come un lavorativo chi no ma questo poco importa è tutta una grande un grande clima di festa speriamo anche per la Juventus domenica sera allo stadio in generale fino all'epifania noi speriamo di prolungare questa festa fino al sette eh fino al sette non i sei sette perché poi si gioca l'ultima di andata eh contro la salernitana mister oggi tu mi hai detto io non voglio ovviamente fare tutto il percorso di Frosinone Juventus come è stato sono passati dei giorni tante analisi sono state già fatte hai fatto anche già delle dirette eh tu stesso dopo la partita ma magari andare a prendere tre mac due tre macro argomenti importanti per fissare un punto c'è un giocatore del momento di cui vogliamo tutti abbiamo voglia di parlare ovviamente ci sono delle situazioni che ti chiederò a proposito degli incastri in attacco eh di Allegri o che ha in mano Allegri dal punto di vista del mister e poi tu ci porterai un paio di cose su cui farà a cui fare attenzione in vista anche banalmente di un Juventus Roma che è tutto da giocare giusto mister? Giustissimo fare un' analisi di Frosinone Juventus a tre giorni da Juventus Roma sarebbe stato non dico inutile però diciamo che siamo proiettati verso la prossima partita ormai abbiamo già detto tutto allora ho voluto concentrarmi innanzitutto ovviamente sull'uomo del momento che è il Diz e andremo a vedere posizione in campo e questo effettivamente ci può proiettare verso Juventus Roma o eventualmente le prossime partite le prossime partite No ma anche perché ti chiederò sulle cose io non so nulla e sapete io vivo tutto spontaneamente quando c'è mister Zenzola non voglio avere nulla in mano prima le slide no ti sappi che ogni cosa mi farà vedere poi proverò anche a giocarla in dicotomia con Federico Chiesa cioè ma quella cosa la fa anche Chiesa o Chiesa come la fa la fa diversa la fa uguale ragionando in termini molto molto banalmente me ne rendo conto di seconda punta ok quindi ti farò delle domande di questo genere voglio ringraziare Ilaria che è con noi best coach Enrico Pennino the fault boy i festini di Pavel Nedded Gunner bianconero ma vedo McManus Darko Kovacevic mini zona ragazzi mini zona perché poi in realtà è solo un briefing per poi andare nell'approfondimento di giornata rimarrà con noi il mister anche quando parleremo di mercato di attualità è un bel pomeriggio insieme salutiamo la chat ovviamente buon pomeriggio buon pomeriggio a flame e buon pomeriggio a coloro che stanno rinnovando l'abbonamento a questo canale Twitch in questo momento tipo Vigno tipo il mento polacco di Miric perfetto eh da immortalare 33 mesi con noi ti vedo Androne Ah no Adorone Juve 25 mesi e poi Simone 77 Leonardo Bip Gismondi e qualche nuovo abbonato ce l'abbiamo ragazzi da portare ditelo ai vostri amici fate qualcosa Mark 17 abbonato da quattro mesi come se fosse un nuovo abbonato quindi procediamo macro argomenti mini zona tante belle cose del cui parlare tra cui ovviamente mister Zenzio dal numero uno come scrive Lalo ma ti fermano per strada a Milano qualche volta mister no no per fortuna ancora no perché non vai mai a Milano tu giri sempre lì in Brianza sì sì sono in Brianza sono in Brianza Milano poco effettivamente no allora ragazzi no allora fermi rispondo solo a Pier Giorgio per quanto compete dalla mia prospettiva allora mister Zenzola lavora per JB zona e per hobby fa l'informatico sappi esatto non so informatico qualcosa che ha che fare con sviluppatore software sviluppatore allora se non ci sarà chiesa sarà di nuovo Milikildiz ragazzi ci arriviamo arriva Giovanni Albanese parliamo informazioni oggi differenziato per non fatemi dire tutto prima andiamo sugli argomenti tecnici tattici che mi piace ripartire da lì dal calcio giocato ragazzi forza mister vai scusami si metteremo diciamo a confronto le due coppie della partita di coppie d'attacco della partita di Frosenoni quindi la Juve partita inizialmente con Milik Ildiz poi al 54esimo Ildiz è stato sostituito ed è entrato Vlaovic ecco abbiamo visto le due coppie giocare in maniera differente leggermente differente ecco inizialmente la Juve era disposta con il solito 5 3 1 1 e poi invece con Milik è diventato effettivamente un 3 5 2 perché era più offensivo e Milik era molto più vicino a Vlaovic rispetto a Ildiz con Milik la posizione di Ildiz possiamo vederla subito fin dai primi minuti si è capito che era lui il giocatore che doveva venire incontro al portatore di panna lo potevamo immaginare più o meno esattamente esattamente lui lo fa in maniera dinamica non statica mi è piaciuta questa cosa esattamente e lo vedrete spesso spalla alla porta cosa che Chiesa invece non fa allora Chiesa è più un giocatore fronte porta da tutte le posizioni in cui si trova invece Ildiz fa quasi da sponda spesso insieme ai centrocampisti da posizione tra le linee non quindi da posizione dell'attaccante invece vedete Milik che gioca proprio sulla linea dei difensori questa questa situazione l'abbiamo vista spesso ecco vedete qua Ildiz riceve palla da Sandro tra l'altro subito molto cercato quindi un giocatore su cui i compagni fanno affidamento perché probabilmente appunto conoscendolo bene dagli allenamenti sanno che è un giocatore qualitativamente di livello e quindi la palla gli viene giocata anche in mezzo agli avversari a più avversari qui vedete la palla di Sandro per Ildiz e Ildiz spalla alla porta vedete come scarica su Rabiot e poi Rabiot allargerà su Costice che si inserisce però la cosa interessante è che questa situazione difficilmente la si vede con Chiesa e Chiesa ha provato a partire centralmente ma non è un giocatore che scusa se rimaniamo su questa slide qui quello che tu ci stai dicendo è Chiesa qui inviterebbe la palla nello spazio cioè o allargandosi cioè o la palla perché c'è lo spazio largo per andarla a catturare oppure addirittura proprio verticale cioè quasi andando alle spalle del difensore cercando di forza di andare per primo su quel pallone stando col corpo più già in partenza verso la porta avversaria esattamente qui non è facile girare cioè ha due giocatori addosso e Ilditz lo sa e quindi cosa fa scarica dietro per poter aprire lo spazio sulla fascia Chiesa normalmente invece si posiziona già con la postura del corpo per ricevere ed attaccare quando è centralmente secondo me in una situazione del genere l'avremmo trovato già largo a Chiesa per ricevere in quello spazio che vediamo mentre Ilditz è un giocatore che si si allarga ma ma poco è un giocatore che comunque sa giocare tra le linee e una situazione importante che è arrivata già dopo il gol di Ilditz ma che secondo me fa capire le caratteristiche del giocatore è quella dell'assist su Kostic vedete qui la Juve esce da destra qua ragazzi mi sono un po' arrabbiato allora ci sono rimasto sono rimasto poi ovviamente avete già capito perché lui vedete come si posiziona nello spazio tra le linee viene servito subito e attacca frontalmente la difesa avversaria quindi attacca vedete Kostic che già si mette in moto per attaccare la fascia e qui nel tempo giusto riesce a trovare questo corridoio con un passaggio secondo me fantastico qui Kostic tempo giusto giri giusti esattamente forza giusta che non era proprio questo sembra questo sembra un filtrante filtrante banale io vi dico che da noi ne ho visti sbagliare nove volte su dieci questo filtrante dei nostri negli ultimi anni questa palla allora è una palla che ad altissimi livelli non è una palla difficile per un grandissimo giocatore nella migliore del calcio italiano questa non è una palla facilissima e lui la fa la rende facile Kostic cosa combina mister? Eh Kostic praticamente sbaglia lo stop gli rimane indietro il pallone quindi proprio però è interessante vedere vedete dove riceve la palla quindi nella nostra metà campo nel cerchio di metà campo e guardate dove la scarica quindi tutto quel pezzo lì che cosa saranno 25 metri se lo fa palla al piede e quando fa il passaggio vedete il difensore di fronte a lui qui la difesa del Frosinone scappa ok ma è nella situazione in cui uno dei difensori si ferma per poter andare a attaccarlo in quel momento il vizio scarica la palla e quindi lo fa proprio nel tempo giusto perché impedisce l'intervento del difensore qui altri due tocchi e ti trovi addosso il difensore invece in questa maniera è riuscito a sfruttare il corridoio che si è creato sul centro-veste un balo avrebbe fatto eh sì 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 ma magari vi dico guardate vi dico anche palla alla Berardi sì ma Berardi ha più quella palletta sopra che è tremenda col taglio che ti mette che poi ai giri per cui la palla sembra che vada verso il portiere ma in realtà al giro sotto rimbalza a terra frena e tu come attaccanti arrivi prima oppure ha una palla più più tagliente Berardi è un po' diversa questa è una palla che da noi diciamo una volta su due una volta su tre se la gioca la fa anche Fagioli questa palla sì sì io se Ildiz la mette dieci su dieci e allora è allora è davvero uno bravo è un nove su dieci anche un nove su dieci vedremo nelle prossime partite chi lo sa vedremo vedremo però si vede che il giocatore è un giocatore veramente di un livello tecnico sopra la media però è importante vedere la sua posizione cioè lui gioca veramente da seconda punta da sottopunta come si dice perché ha quella posizione centrale si riesce a farsi trovare bene tra le linee ed attaccare la difesa l'avversaria guardandola in faccia e soprattutto tenendo il pallone attaccato al piede questo è molto molto importante Chiesa invece la stessa cosa la fa partendo da sinistra quindi largo lui ha bisogno di avere questo come dire la postura del del corpo che rientra verso il campo per poter essere devastante con la sua velocità e il suo dribbling in corsa ecco quindi secondo me il Diz è alternativo a Chiesa anche a Milik quando gioca da seconda punta ovviamente arriverò anche la domanda che è stata posta da Allegri in conferenza eh quella del si possono giocare assieme esatto e lui no perché lui mister questa volta dovrai riconoscerlo ha dato una risposta tattica cioè non ha non ha liquidato dicendo cioè poi il Kaida non è entrato nei dettagli però non l'ha liquidata alla Livornese del tipo eh chi vivrà vedrà o eh lascia i che so queste cose ci penserò dopo la cena di Capodanno non ha no che potrebbe essere una risposta anche Allegriana volendo invece lui ha parlato di un sistema ha detto ah quindi tu noi potremmo fare tre quattro due uno così ha detto ha detto quindi ma la squadra non credo sia in grado di sopportarlo in questo momento a livello di equilibrio il tre quattro due uno ci squilibra questo ha detto lui però lui quando gli è stata fatta la domanda a farli giocare insieme ha di modo spontaneo tirato fuori quello che è l'argomento con lo staff tecnico da un tempo cioè tre quattro due e si possono collegare anche le voci che si sentono di mercato sul centrocampista non non si parla più di una mezzala ma si parla più di un mediano e quindi parleremo ne parleremo nel corso di potrebbe essere quello esatto allora andiamo però lui si è detto poco convinto di poterlo sostenere eh sì perché quella quel meccanismo sulla destra tipo cambiaso meccenni che si coprono a vicenda uno attacca fra le linee si si incrociano eccetera ovviamente col tre quattro due uno avendo un giocatore più offensivo da quella parte diventa diventa più difficile però sarebbe trovando gli equilibri giusti e secondo me si possono trovare sarebbe un attacco devastante perché con chiesa sul centrosinistra e e il dice sul centrodestra veramente a livello tecnico diventi diventeremmo molto molto più più forti eh nella fase offensiva su il diz però non si può non far vedere il gol perché allora fermo ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo ma poi allora io vorrei che tu rispondessi a gran passo perché gran passo credo che sia l'unico nell'universo ad aver visto la partita una seconda volta come te quindi dice facciamo comparazione con sule veloce 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 ok partono da zone diverse sono giocatori diversi ho rivisto la partita e comunque sule ha portato a spasso tutti eh frosinone pericoloso dai suoi piedi sempre anche se noi magari in presa diretta non abbiamo avuto questa sensazione di costante pericolosità o non abbiamo avuto la sensazione che di fronte non avessimo sule ma messi perché non ha fatto diciamolo non la non gli è uscito il partitone come gli è riuscito altra volta quest'anno però gran passo dice io l'ho rivista attenzione perché sule ha portato a spasso tutti vero falso è una percezione condizionata mister allora dobbiamo dire una cosa i primi 20 minuti secondo me sule è stato tenuto molto bene fino a quando è rimasto in campo alexandro tanto che spesso in quei primi 20 minuti si è spostato dalla parte opposta l'abbiamo visto agire a sinistra proprio perché a destra non riusciva a bucare replicato spesso soprattutto nei primi esatto sul primo sul primo controllo veniva subito la ripartita l'idea era quella esatto nel momento in cui è uscito Sandro e si è spostato Danilo di là noi abbiamo iniziato a soffrire da quella parte e devo dire la verità ho visto un giocatore in fiducia cioè sule ha in questa stagione che sta facendo a Frosinone ha delle probabilmente ha delle certezze in più su se stesso e quindi gioca bene e non so se ci ha portato a spasso però è veramente il punto di forza del Frosinone perché non solo nel dribbling nella conclusione nella soluzione personale ma anche nel far giocare i suoi compagni di quella zona lì cioè vede bene le sovrapposizioni dalla palla dentro c'è un giocatore che secondo me è cresciuto tanto ecco questo lo si può lo si può dire ragazzi ragazzi a giugno rivederci chiesa con tutto questo popò sabra dice tra il Diz sull'essere nei più forti dell'universo mondo chiesa al mercato al rinnovo al rinnovo magari fa un po' le bizze a questo contratto che scade il 25 e ne parliamo dopo ragazzi arriva anche Giovanni Albanese arriva Michele De Blas c'è un altro macro argomento allora prima roba mister tu quale coppia giocheresti contro la Roma vero è veramente secco risposta secca il Diz Blauvic ok poi chiesa me lo terrei nel secondo tempo chiesa ancora convalescente ma dovrebbe recuperare però vorrei far vedere l'azione del gol perché secondo me è un qualcosa di fenomenale quello che ha fatto e lo vediamo subito parte da un'azione di pressing dalla parte opposta di McKennie Milik vedete il Diz sempre nella la sua posizione centrale tra le linee la palla viene giocata indietro il portiere qui è bravo Milik a disturbare il rinvio di Turati che appunto non avendo dei piedi eccezionali spara questa palla a caso verrà recuperata da Kostic che tornando al discorso di prima la fiducia nei confronti di Diz gli scarica subito il pallone e qui Diz fa un controllo di sinistro se la porta sul destro lo attaccano in tre e entra diciamo dribbla tutti e tre con un con un tocco di sinistro che secondo me è veramente fenomenale perché non se lo aspettava nessuno lì probabilmente si aspettavano il rientro col destro invece questo tocco di sinistro li passa li salta tutti e tre e poi va a calciare nell'angolo basso sul primo palo con grande potenza e precisione quindi un gol veramente da grande giocatore e se pensiamo che all'esordio dall'inizio era all'esordio dall'inizio nella Juventus ne fa crescere ancora di più le aspettative perché è veramente bravo quindi discorso Ildiz chiuso al cinquantaquattresimo lui esce con la Juve già sull'uno a uno e al suo posto entra Vlaovic cosa cambia cambia che lo vediamo vedete come Vlaovic va a fare la punta centrale proprio in mezzo alla difesa tre del Frosinone e adesso è Milik che si stacca tra le linee a cercare appunto di dare quella quella soluzione di gioco dietro la linea dei centrocantisti di questo slide per farti una domanda secca o meglio se supporti questa mia tesi non c'entra nulla quello di cui stiamo parlando però visto che sono ben visibili ne parlo McKennie cambiaso quest'asse di destra noi abbiamo giocato con McKennie a esterno e cambiaso interno contro il Frosinone per la prima volta in maniera direi abbastanza stabile e con McKennie secondo me che effettivamente da esterno sta crescendo tantissimo per me sul podio dei migliori assolutamente della gara col Frosinone sono d'accordo sono d'accordo e è vero poi sono state più le volte in cui McKennie ha giocato da esterno che da interno però con cambiaso in campo ha giocato molto più tempo lui esterno che cambiaso è la prima volta che è così visibile questa cosa la scelta di Allegri è McKennie esterno più che cambiaso qua tra l'altro nel primo tempo c'era questa strategia di attirare il Frosinone nella nostra metà campo perché Frosinone è una squadra che pressa alta quindi molto aggressiva per fare questo lancio sopra dietro la linea dei difensori e lì sulla fascia era sempre McKennie che si inseriva quindi era proprio in posizione costante lì vediamo questa situazione questa è la situazione del gol sbagliato da Blaubic vedete come è sempre Milik a fare da rifinitore cioè fa l'assist qui c'è il cross di McKennie e Milik la gioca sponda di testa per Blaubic che poi calcerà addosso a Turati ecco quindi come cambia cambia che quando entra Blaubic con la coppia Blaubic Milik abbiamo sicuramente molto più fisicità nell'area di rigore è un giocatore in più nell'area di rigore ecco la cosa che è mancata nel primo tempo con Ildiz è che Ildiz gioca molto tra le linee però poi non entra ancora tantissimo dentro l'area di rigore ok infatti l'area di rigore veniva occupata da McKennie da Cambiaso spesso invece con Milik nel secondo tempo abbiamo avuto proprio due punte vere che si alternavano ma a volte anche insieme occupavano il centro dell'area di rigore facciamo vedere anche qui il gol di Blaubic secondo me è fantastico perché qui giocano la palla Weah e McKennie sulla fascia qui è già entrato Weah ma vedete come McKennie comunque stia largo anche con Weah esatto vedete ho cerchiato Blaubic perché lo vedete marcato stretto dal difensore del Frosinone ma nel momento in cui la palla arriva a McKennie vedete come già lui si stacca dal difensore il difensore rimane in quella posizione Blaubic si stacca questo staccarsi dal difensore vedete qui ancora di più gli permette movimento e contro movimento eh ragazzi ho fatto anche la slow motion su questo andate a rivederlo gli permette di fare il terzo tempo e quindi saltare più del difensore il difensore rimane fermo qua si vede bene vedete come salta molto di più rispetto al difensore e va a colpirla proprio bene anche nonostante il cross fosse lento quindi difficile da girare lento ma preciso perché McKennie devo dire colpevolmente l'hanno proprio lasciato ha guardato in mezzo ha guardato ha scelto come calciare come crossare un po' lento ma praticamente non è andato nessuno in opposizione McKennie ha fermato il pallone ha osservato l'area di rigore ha scelto Blaubic e Blaubic l'ha ricambiato ma questo diciamo con un gran gol sì 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 finalmente ma quest'anno solo gol belli eh Dusan poi noi siamo qua a piangere e a lamentarci tutti i giorni di lui eccetera Giovanni Albanese troviamo con noi ciao ciao un poveriggio noi qua poi andremo avanti all'infinito a parlare di campo e tutto però ovviamente vi seguivo con estremo interesse perché poi ci sono una serie di spunti che purtroppo nella chiacchiera comune spesso e volentieri non vengono fuori bisogna invece soffermarsi su tante cose anche per capire poi cosa può esserci dietro determinate scelte e dietro tante di quelle situazioni che a volte passano così inosservate e ne parleremo anche grazie alla tua presenza prima facciamo magari una chiusura sugli aspetti un po' più questo focus tre macro focus tecnico tattici che il mister ci voleva far osservare ci voleva far osservare l'errore difensivo gli errori difensivi da non ripetersi contro la Roma poi andiamo nell'attualità di oggi faremo partire una sigla che staccherà i due argomenti e ci gettiamo anche con Giovanni Albanese nell'attualità e in retroscena del perché certe scelte perché e tutti i differenziati di oggi cosa significano in vista di sabato prego mister allora il gol preso col Frosinone fa il paio con quello preso col Genoa nei primi cinque minuti del secondo tempo la Juve si dimostra secondo me un po' distratta allora quello quello col Genoa era un po' di confusione rimpalli palla mezza alta mezza pimpum pam invece quello contro il Frosinone è un po' più grave perché lì abbiamo la difesa schierata anzi tutta la squadra schierata azione in linea esatto e ve lo faccio vedere perché lo vedete qui il Frosinone sta giocando palla sulla metà campo vedete come la difesa allegri bufalito per questo gol preso qui esattamente vedete Costice che tiene Baez Danilo ha di fronte a sé Sule e Bremer Caio Giorgio qui non vedete McKennie ma il quinto è proprio McKennie sotto quindi fuori schermo a sinistra no ma adesso ve lo faccio vedere da qua si vede meglio ecco vedete è la stessa immagine vedete che sta colpendo il pallone il giocatore del del Frosinone vedete la difesa è schierata così ok quindi difesa di posizione anche sufficientemente alta questa è la zona cam quella che mandiamo noi in giro per l'Italia per farvi esattamente esattamente vedete che cambiaso ha proprio la posizione dell'interno di centrocampo non fa il quinto ecco questa è la situazione la palla poi arriverà credo Romagnoli e farà il lancio ok qui vedete che Sule fa un movimento ad attaccare e Danilo lo segue ok qui la palla ce l'ha il difensore del del Frosinone ma non ha ancora calciato quindi c'è questo contro movimento lungo corto di Sule che però poi si ferma alcuni dicevano Danilo è stato distratto dal movimento di Sule non è vero perché Sule poi vedete che torna indietro ma Danilo prosegue la corsa qui è il momento del lancio del difensore vedete qui Kostic postura del corpo già diciamo non completamente corretta perché sta guardando il pallone e l'attaccante guarda invece la porta quindi è sicuramente in vantaggio nella corsa rispetto a Kostic perché è già posizionato mentre Kostic è di lato e qui c'è Danilo che può tranquillamente fare la copertura vedete qui ho cerchiato la palla qui la palla in aria dove c'è scritto dove c'è il cartellone pubblicitario ragazzi esattamente esattamente dove c'è scritto giugno 024 la palla è lì il pallone è già partito e si inserirà praticamente fra i due giocatori tra Kostic e Danilo qui Kostic già ha perso il giocatore vedete questa è la situazione vedete come ha perso il giocatore e anche Danilo ha calcolato ha letto male questo passaggio che è un passaggio lento e neanche tanto alto cioè assolutamente intercettabile ok la palla passa e qui secondo me c'è l'errore di Scesni perché qui c'è l'uscita di Scesni che non ha assolutamente senso cioè giocatore defilato oltre al senso oltre al senso ma anche la copertura specchio mi è persa un po sì sì nel momento in cui a me piacciono le situazioni dove tutti gli interpreti si dimostrano decisionisti cioè tu mi devi prendere una decisione Scesni se fai quei tre passi avanti allora devi andare fino in fondo secondo me non rimanere mai a metà strada in generale quindi lui fa questa scelta abbastanza strana di uscire benissimo però è come lo specchio cioè lui lui perde perde e questo mi ha un po' stupito devo dire perde un po' la collocazione geografica da sua copertura guarda da qui si vede ancora meglio cioè cosa poteva fare il giocatore lì se tu stai nella in porta e copri il primo palo cioè con con Bremer che sta uscendo per cercare di andare a prenderlo quindi l'uscita proprio è proprio sbagliata nei tempi per quello dico abbiamo tre errori Kostic Danilo e Scesni secondo me la Juve era distratta cioè proprio ed è la seconda volta che succede nei primi minuti del secondo tempo quindi io farei scattare un piccolo campanello d'allarme perché sai alla seconda volta insomma diciamo che fino ad ora fino a domenica scorsa fino alla partita scorsa col Genoa non avevamo mai visto errori di questo tipo cioè la Juve che prende un gol in questa situazione era praticamente impossibile anche perché la Juve concede questo palleggio nella metà campo da parte degli avversari perché sa che se fanno un lancio lungo è praticamente sempre nostro e invece in questa situazione ci siamo fatti sorprendere magari chiedo anche a Giovanni un commento prima poi di gettarci nell'approfondimento di oggi un commento su questa situazione specifica Giovanni una catena di 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 la compartecipazione a catena di di errori più o meno macro ne avevamo già discusso nel gol preso c'è stato quest'anno un gol che abbiamo preso con una catena di errori quello dell'Inter no? Ricordate dove ci siamo messi dove spesso ci si è messi tra virgolette nei dibattiti tra Juventini a discutere di chi chi aveva maggiori colpe chi ha date a Bremer chi Rugani perché era uscito come un pazzo chi invece a centro area Gatti bruciato anche qui io direi che la colpa è di almeno tre interpreti a te come cioè quello in velocità costi c'è quello che dici ma se l'è perso subito no? Cioè l'errore costi in origine è proprio guarda io ti dico una cosa Luca eh è un pro e un contro questo eh in diverse circostanze quest'anno quando sono stati subiti dei gol dove alla fine c'è stato un grave errore di tutta la fase difensiva della Juve e puntualmente si sono fatti beccare i giocatori più esperti della Rosa e in questa circostanza Cosic Danilo e Scesni due giocatori esperti dai quali non ti aspetti determinati errori eh magari un giovane lo metti lì e dici vabbè è giovane questo errore devi tenerlo in conto in effetti qui c'è un errore invece di giocatori che non dovrebbero fare questo questo tipo di errore e il pro è che alla fine essendo giocatori esperti staccano subito dopo la spina e la sanno riattaccare eh nel far proprio la 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 partita e però obiettivamente su queste circostanze qua mi pare la Juve cominci a traballare un pochino e questo non va bene cioè la troppa sicurezza nell'aver trovato equilibrio lì dietro a volte tipo far peccare di presunzione ti riferisci forse anche al fatto che le ultime cinque partite solo una non abbiamo subito gol credo quella col Napoli sì eh e però ancora cioè io non credo la Juve quest'anno possa permettersi il lusso da qui alla fine del campionato di dire in questo momento qua posso gestire questa è una squadra che deve fare il cento dieci per cento di attenzione sempre anche se Allegri vorrebbe arrivare lì eh vorrebbe arrivare anche a dire ok adesso siamo anche di nuovo un po' capaci a gestire delle situazioni ci vorrebbe arrivare secondo me secondo me questo è davvero l'ultimo obiettivo che potrà raggiungere questa rosa ma semplicemente perché davvero è cambiata tantissimo e negli interpreti più esperti c'è ancora quella componente che ti porta a a dover fare la massima attenzione e e a non gestire con questa sufficienza perché per caratteristiche Scesni l'errore a partita a volte se lo concede per caratteristiche Danilo che è migliorato tantissimo da quando è arrivato alla Juve quell'errore magari a volte se lo concede Kostic eh però secondo me lì dietro questa però mi però mi permetto di dire questo sicuramente è una cosa che cioè non toglie nulla a coloro che stanno portandoci a fare tanti punti quest'anno però è che noi viviamo l'idea che ogni tot Scesni puoi pagare un pochino qualcosa poi lui si riscatterà in altre partite perché storicamente così che Danilo è un giocatore che non è un giocatore perfetto e forse non è neanche perfettibile però è una bella guida un giocatore comunque completo che questo cosa ci sta a significare potremmo metterci anche altri giocatori dentro e che questa è la differenza tra trovare una grande annata di Scesni, Danilo e avere Buffon, Chiellini, Barzagli e Volucci che quando succede un errore grave un errore grave di uno di quegli interpreti di sapevi che per un anno e mezzo li ha posto cioè con uno cioè l'errore grave non la non la sfumatura l'errore grave a Buffon è successo ma poi per tre anni non ti succede più a Chiellini è successo ma per due anni sei a posto mentre questa è la differenza tra essere dei grandi giocatori e dei campioni questa è la differenza. Sì cioè sono d'accordo cioè la serata di Sassuolo Juventus l'hanno steccata i giocatori più esperti tutti insieme ed è andata come è andata poi però da quel momento in poi la Juventus è stata davvero quasi perfetta e in qualche circostanza però viene sempre fuori questo questo aspetto qua cioè che quando allenti un attimo la tensione e forse non è un caso che questo succeda all'inizio dell'intervallo all'inizio della della ripresa perché evidentemente ancora la tensione è bassa e non hai attaccato bene la spina e e ti fai ti fai beccare ancora di più da squadre che sono composte da giocatori giovani e e quindi magari tendi a sottovalutare che sulle con il contro movimento possa metterti in difficoltà e che forse non le possa arrivare in porta con questa facilità allora l'uscita di Scesni mi pare un'uscita disperata e senza senso senza senso allora mister lascia a te l'ultima frase in chiusura vista non so anche Juve Roma quello insomma siamo siamo comunque soddisfatti eh di quanto ha fatto la squadra finora eh devo dire che la ricetta allegriana non è stata stravolta in questo grosso blocco di giornata ma è tornata a essere piuttosto efficace no non è stata stravolta nel senso che poi alla fine sono ritornato Bazzino nella difesa con i tre brasiliani a un certo punto c'è anche ci torna sulle sue sulle sue idee sulle certezze però quest'anno con un'efficacia diversa e con degli occhi della squadra una voglia di cercare di fare le cose nonostante gli errori diversa dagli anni passati quindi ben venga per la Roma che ci dici per la Roma troveremo due squadre che giocano più o meno la stessa maniera col tre cinque due e secondo me l'attenzione difensiva farà la differenza perché eh la Roma ha i giocatori con una qualità tale a poterci far male se ci scopriamo troppo o concediamo questo tipo di situazioni cioè eh Lukaku eh Pellegrini ci ci sono dei giocatori di qualità nella Roma non so se giocherà di bala non credo però dobbiamo dobbiamo stare molto attenti secondo me sarà una partita chiusa soprattutto all'inizio non ci sarà non ci saranno grandi grandi occasioni da gol ecco un giocatore come il Diz stuzzica parecchio potrebbe fare la differenza. La reclama come tanti di voi ancora titolare allora scopriremo se ci sono delle possibilità anche grazie a Giovanni Dalbanese sta per unire a noi Michele De Blasis due minuti di sigla e partiamo con il JBLive di oggi.